Presentazione ufficiale, in grande stile, per la seconda edizione di Lucca in Maschera, che mira a diventare una delle manifestazioni più importanti della città. La grande novità di quest'anno è l'arrivo per tutto il mese di febbraio nelle piazze cittadine delle costruzioni dei carristi via Reggini. Non solo, come anticipato da Noi TV, la riproduzione dei Rolling Stones, realizzata da Luca Bertozzi, che in collaborazione con il Summer Festival di Mimmo d'Alessandro sarà posizionata in piazza Napoleone. Ma anche la spettacolare Tigre in Gabbia, sempre di Bertozzi, che invece sarà installata in piazza San Michele, e il gruppo Lisciamani di Michele Canova, che troverà posto in piazza Anfiteatro. Completa la serie delle installazioni, la balena di Pinocchio, lunga 15 metri, che potrà essere ammirata in piazza Le Verdi davanti alle informazioni turistiche grazie alla collaborazione con la Fondazione Collodi. La manifestazione prenderà il via il 4 febbraio con la grande sfilata carnevalesca, che percorrerà le mura e il centro storico, guidata oltre che da Ondina e Burlamacco, anche da una madrina d'eccezione, l'inviata di striscia alla notizia Chiara Squaglia. Per tutto il mese poi sono in programma spettacoli e iniziative per i più piccoli e non solo, tra cui il 17 febbraio l'Allegra Baccanata, promossa da Confcommercio, e l'esibizione del duo comico dei Pampers, realizzato in collaborazione con Luca Crea. L'assessore al turismo Santini ha sottolineato l'importanza della collaborazione con la Fondazione Carnevale e il Comune di Viareggio. Una rinnovata collaborazione con la città vicina, ma anche la voglia, come dire, di vestire questa Lucca in maschera come un appuntamento che davvero possa diventare il fulcro della destazionalizzazione per quanto riguarda Lucca. La presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci, ha lanciato l'idea di una grande mostra per documentare i fasti dell'antico Carnevale di Lucca. Sarebbe molto bello, così come abbiamo fatto noi, che anche Lucca riscoprisse il suo archivio, la sua storia, la storia del Carnevale e fosse visitabile da tutti. È un auspicio. Al termine l'annuncio che il sindaco Pardini sarà presente al prossimo appuntamento della canzonetta di Viareggio, con tanto di buccellato.